Benvenuti al Tg Riviera dei Fiori, il notiziario della provincia di Imperia. Non luogo a procedere. È questa la sentenza del Tribunale di Sanremo sul procedimento relativo alla presunta incandidabilità dell'ex sindaco di Bordighera, Giovanni Bosio, e di alcuni assessori della sua ex giunta, Marco Sferrazza, Ugo Ingenito e Rocco Fonti, dopo il caso dello scioglimento del Consiglio Comunale per sospette infiltrazioni mafiose, uno scioglimento contro il quale era stato presentato un ricorso che è stato accolto dal Consiglio di Stato che ha annullato lo scioglimento stesso. È una vicenda ancora controversa. Una vicenda, appunto, dicevamo, in via di definizione, ma la notizia di oggi è appunto la sentenza di non luogo a procedere che quindi consentirebbe agli ex amministratori di partecipare alle prossime elezioni amministrative. È un risultato che ci aspettavamo, ha commentato a caldo Giovanni Bosio, ex primo cittadino di Bordighera. Almeno in questa sede è confermata la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato lo scioglimento per come era avvenuto. I lavoratori della Eco Imperia e della Imeri sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi del comparto ambiente nel comune di San Bartolomeo al Mare e per il mancato confronto con la ditta Tra Deco che si è aggiudicata all'appalto della raccolta dei rifiuti in 35 dei 67 comuni della provincia di Imperia. Il corteo, composto da una ottantina di lavoratori, è partito da Piazza Bianchi per arrivare in Piazza della Vittoria davanti al comune. I rappresentanti sindacali si sono poi recati in questura per la definizione delle modalità del sit-in di protesta previsto per sabato 16 marzo in concomitanza con la Milano-Sanremo. Una protesta che potrebbe coinvolgere anche i dipendenti della Imeri impegnati nel comune di Sanremo per il mancato rispetto degli accordi presi meno di un mese fa con i vertici delle Imeri stessa. Una notizia di cronaca nel pomeriggio di domenica. I poliziotti sono stati chiamati sulla passeggiata Trento e Trieste di Ventimiglia dove un cittadino straniero in stato di alterazione alcolica stava minacciando il proprietario di un locale rifiutandosi di pagare il conto. Si trattava di un cittadino polacco residente in franzione Trucco il quale urlando la propria presunta appartenenza alle forze speciali dell'esercito polacco e in effetti si trattava di un uomo sui 54 anni alto 1,90 m e del peso di circa 120 kg aggrediva i poliziotti intervenuti sul posto prima verbalmente e poi passando alle vie di fatto. Considerata sia la stazza che le condizioni psicofisiche del soggetto difficile gli operatori hanno chiesto l'ausilio del settore di polizia di frontiera altri agenti sono riusciti a ricondurre alla ragione il cittadino polacco una volta ammanetato l'uomo nel tragitto verso il commissariato con calci e pugni ha anche danneggiato gli interni dell'autovettura della volante è stato quindi arrestato per violenza, resistenza, oltraggio e danneggiamenti. Ed ora cambiamo discorso parliamo della situazione degli impianti sportivi del comune di Sanremo in particolare della costosissima nuova pista di atletica ancora inutilizzata per problemi legati sia ai costi di gestione che ha evidenti difetti strutturali che sono stati evidenziati ancora prima che la struttura potesse entrare in funzione. Gli uffici del comune hanno fatto una proposta l'unica al momento perseguibile per consentire l'apertura della pista di atletica almeno per i giochi della gioventù previsti per fine maggio infatti mentre si attende una vera e propria gara d'appalto per tutta la struttura compresa la palestra e il bar si potrebbe affidare la pista di atletica all'associazione sportiva Foce una società sportiva molto conosciuta in città che si era già proposta per la gestione della palestra ma che non ha ovviamente i fondi per partecipare all'appalto appunto previsto dal comune di Sanremo potrebbe essere una soluzione provvisoria è una storia nata male quella della pista di atletica di Pian di Poma a Sanremo voluta dall'amministrazione di Claudio Borea per smuovere la situazione degli impianti sportivi fermi alla preistoria cittadina il progetto aveva suscitato perplessità per il forte impegno di spesa a fronte di una struttura destinata allo svolgimento di attività sportive con un esiguo numero di praticanti a fronte oltretutto dell'alternativa già esistente negli impianti di Camporosso e di Imperia intanto gli altri impianti sportivi di Pian di Poma erano e sono tuttora in uno stato indecoroso per non parlare delle palestre cittadine ridotte a pezzi nonostante lo svolgimento di campionati internazionali di altre discipline prevalse però in allora la linea della pista di atletica che venne quindi costruita con una spesa di circa 6 milioni di euro una storia nata male dicevamo la struttura oltre a non essere stata completata sta già cadendo a pezzi l'amministrazione in carica si è trovata di fronte a una struttura ancora da collaudare ma già piena di problemi allagamenti dall'alto e umidità dal basso hanno segnato gli edifici gli spogliatoi e gli impianti interni non esistono ancora e dal resto della struttura esterna si staccano pericolose lastre di Ardesia evidentemente qualcosa non ha funzionato sul versante del controllo dei lavori ma ormai è così l'unico guizzo di vitalità si è avuto un anno fa quando le società sportive hanno tenuto di poter svolgere i giochi della gioventù utilizzando solo la pista il comune ha poi bandito una gara per la gestione che prevedeva vincoli e costi proibitivi per ogni piccola società sportiva e l'appalto è andato deserto la notizia di oggi è che la società AS Foce si è detta disponibile a svolgere un lavoro di guardianaggio gratuito in cambio dell'utilizzo della pista di atletica con un primo appuntamento proprio per i giochi della gioventù 2013 il comune sembra intenzionato a dare il consenso per evitare che la struttura continui a degradarsi prima però si dovranno trovare circa 4.000 euro per le transenne necessarie a isolare le pareti esterne che stanno cadendo a pezzi un'ultima annotazione se anche venisse dato il via libera ai giochi della gioventù i genitori dovranno mettere mano al portafoglio allo stato attuale infatti il comune alle prese con la crisi e con il patto di stabilità non può garantire il servizio di autobus per il trasporto degli studenti e quindi le scuole dovranno organizzarsi in modo autonomo chiedendo un contributo agli studenti stessi questo è il quadro desolante della struttura sportiva che avrebbe dovuto segnare il rilancio dello sport giovanile a Sanremo costata 6 milioni di euro e nella quale si potrà correre solo di giorno perché? perché nei 6 milioni non era compreso l'impianto di illuminazione e forse tutto sommato è meglio così restiamo nel comune matuziano una vera e propria levata di scudi contro l'introduzione della tassa di soggiorno paventata dal comune di Sanremo arriva da tutto il settore turistico della provincia di Imperia hotel, agriturismi, bed and breakfast, campeggi, agenzie di viaggi si uniscono nell'opposizione alla tassa di soggiorno la Confesercenti ha raccolto online le reazioni degli operatori per protestare contro la volontà dell'amministrazione di Sanremo di applicare l'imposta che il comune considera necessaria per portare in pareggio il bilancio comunale del 2013 la protesta segue quella della Federalberghi avvenuta nei giorni scorsi il presidente regionale Americo Pilati e quello sanremese Igor Varnero hanno chiesto un incontro al sindaco Zoccarato ma il comune di Sanremo intanto sarà chiamato in questi giorni a decidere anche sul rimborso di una parte dell'Imu agricola del 2012 dopo le vehementi proteste di tutto il comparto agricolo per l'applicazione dell'aliquota massima superiore al 10 per mille l'intenzione è quella di abbassare per alcuni casi l'aliquota intorno all'8 per mille ma la bozza presentata oggi dagli uffici ai capigruppo non è stata accettata sentiamo i consiglieri di opposizione Alberto Bianchieri e Andrea Gorlero ma oggi noi abbiamo ricevuto all'Unione del Capigruppo il regolamento Imu che è da 4 mesi che stiamo aspettando però a parere nostro era un regolamento che non era completo visto che non mancavano praticamente gli indirizzi e soprattutto non era neanche chiaro il metodo in cui veniva dato questo contributo dunque abbiamo rimandato indietro la pratica abbiamo chiesto gli uffici di maggiori spiegazioni e soprattutto di presentare di qua i 10 giorni un regolamento più completo perché a nostro avviso questo contributo devono essere determinati produttori a sfruttarlo unicamente meno male a chi oggi coltiva e chi oggi affitta terreni per far sfruttare i propri terreni e i pensionati agricoli queste tre fasce di componenti devono poter usufruire di questo contributo mentre invece chi possiede terreni incolti che non sono pensionati a questo punto a nostro avviso non deve avere questo contributo noi già in Consiglio Comunale parliamo di circa un anno fa avevamo detto in tutte le maniere all'amministrazione che era inconcepibile portare un'aliquota dell'Imu a 10.6 l'abbiamo detto, ridetto, non sono stati ascoltati purtroppo poi sono arrivati a questo punto cioè tramite un emendamento al bilancio di dover ridare questi soldi ai propri ricoltori cioè il giorno prima l'amministrazione fa una scelta e il giorno dopo fa l'incontrario di quello che ha scelto questo è stato anche secondo me un momento brutto della nostra politica ma allo stesso tempo con un po' più di attenzione, con un po' più di analisi forse si poteva non chiedere da subito questa aliquota massima ma ridurla come hanno fatto altri comuni che riflessi potrà avere sul bilancio del Comune questa restituzione di una parte dei soldi dell'Imu agricola? ma guardi, il paradosso è che questa restituzione non avrà nessun effetto sul bilancio comunale nel senso che noi abbiamo già stanziato queste somme che aspettano soltanto di essere restituite ai froricultori a soggetti che hanno subito un'imposizione fiscale che ha comportato un aumento di 7 volte, 6 volte e mezzo della tassa precedente e dunque hanno pieno diritto di vedersi riconosciuto appunto una parziale restituzione ricordo che questi stessi soggetti subiscono una concorrenza non sleale perché lo consente la legge ma certamente punitiva da parte di imprenditori meridionali, imprenditori della Toscana gli stessi imprenditori del resto della provincia di Imperia perché sono i soggetti che hanno le rendite catastali più alte e applicano l'aliquota Imu 10,6 per 1000 voluta da questa amministrazione in maniera assolutamente sbagliata su questa loro imposizione vorrei aggiungere invece il contrario quali sarebbero gli effetti se non si dessero questi soldi cioè se io ho l'impressione che ci sia qualcuno che spera che questi soldi non siano dati perché questi 500 mila Euro potrebbero rientrare nelle casse comunali in questo momento il Comune è in grave difficoltà finanziarie e questi 500 mila Euro potrebbero fare comodo in questo periodo sotto forma di economia di gestione sentiremo domani l'opinione del Presidente del Consiglio Comunale Marco Lupi presente oggi nella conferenza dei capi gruppo che ha intervinto anche lui su questo tema dell'Imu agricola un importante appuntamento per la famiglia, genitori e bambini e insegnanti sui disturbi dell'apprendimento si svolgerà sabato 16 marzo alle 14.30 presso l'oratorio Don Bosco in via Colonella Prosio a Valle Crosia in occasione della terza festa della famiglia di Valle Crosia si parlerà in particolare della dislessia la dislessia coinvolge almeno uno studente in ogni classe e se non viene riconosciuta o correttamente affrontata causa forte disistima e peggioramenti significativi di carattere ed umore nei bambini la possibilità però per evitarlo c'è se ne parlerà con due ragazzi dislessici ormai laureati che raccontano la loro esperienza aiutando le famiglie interessate con i loro bambini e gli insegnanti a capire cosa succede in un ragazzo o in un bambino dislessico dopo questo primo momento i ragazzi verranno guidati in un percorso di giochi e di confronto per capire meglio cosa vivono e come possono affrontarlo genitori e insegnanti invece avranno la possibilità di approfondire e porre domande a specialisti del settore interverranno infatti diversi psicologi per ulteriori informazioni ci si può collegare al sito www.cittadelafamiglia.it adesso cambiamo ancora argomento parliamo di una mostra fotografica della mostra del fotografo Fulvio Bruno la mostra si chiama Sanremo Photo Festival e presenta appunto una serie di fotografie realizzate nell'occasione del Festival di Sanremo presso lo spazio espositivo degli ex magazzini ferroviari sul lungomare Italo Calvino a Sanremo si svolgerà dal 9 al 20 marzo vediamo il servizio una mostra che è nata un po' per scommessa perché pensavo che forse poteva interessare soprattutto in una settimana come questa settimana dedicata quindi al turismo dove c'è Sanremo in Fiore dove ci sarà la Milano Sanremo dove c'è l'Oscar TV e quindi visto che è appena concluso un Festival di Sanremo che ha avuto particolare successo in quest'anno soprattutto perché no dare la possibilità ai turisti di visitare un'ampia mostra fotografica dove c'è un flash di tutto questo festival tra ospiti, cantanti, presentatori, vincitori e quindi tutti i personaggi esposti in più di 150 scatti e quindi diciamo a disposizione di tutti per poter gustare da vicino i piccoli particolari dei personaggi che sono stati qua nient'altro non è il primo Festival che fai ne hai fatto altri le altre fotografie degli altri anni non le metti? ma quest'anno ho deciso di dedicarlo solamente a questa ultima edizione io seguo il Festival da diversi anni e quindi fotografo dal Teatro Ariston tutte le serate perché no? un'idea che avevo già pensato negli scorsi anni non è detto che le prossime edizioni saranno anche rivolte a immagini provenienti da Festival passati diciamo che questo è una partenza devo ringraziare il Comune di Sanremo che mi ha dato la location per poter esporre ha avuto abbastanza successo perché in questi due giorni sono entrati io credo più di 600 visitatori i commenti sono positivi e diciamo che poi c'è una sorpresa al termine di questa esposizione fino a quando starà aperta questa mostra? e gli orari che fa? allora la mostra sarà aperta dal 9 al 20 di marzo e sarà aperta dalle 10 del mattino con orario continuato fino alle 18 con ingresso libero quindi ingresso gratuito però tu sei voluto andare oltre hai voluto fare un libro diciamo tutto dedicato a questa mostra e a questo festival certo diciamo che abbiamo fatto un tour de force perché il festival è terminato da neanche un mese e abbiamo fatto veramente un tour de force per realizzare questo libro fotografico che raccoglie e racchiude tutte le immagini che trovate qui in mostra oltre ad altre e grazie anche alla giornalista Silva Bosch che mi ha permesso di curare i testi abbiamo anche inserito piccole biografie dei cantanti l'elenco dei partecipanti l'elenco degli ospiti e anche i dati di ascolto delle serate delle varie serate quindi diciamo che può essere una bella raccolta fotografica da collezionare e tenere lì nella propria libreria ecco questa è una bella idea anche del libro perché la mostra vai e vieni il libro rimane lì per uno che lo vuole comprare certo il libro resterà a disposizione ovviamente online in vendita attraverso diversi canali che sono pubblicizzati comunque anche sul mio sito internet a Sanremo probabilmente sarà distribuito anche nelle migliori librerie e quindi sarà a disposizione di tutti ma diciamo che è un libro che è rivolto soprattutto a coloro che amano il festival dall'estero perché abbiamo visto che il festival è apprezzatissimo a livello internazionale e nel giro pensate di una sola settimana abbiamo ottenuto più di 1500 mi piace su Facebook seguendo le foto di questo evento qua per cui presumo che sarà un successo a livello internazionale speriamo bene tutto per questa edizione del Tg Riviera dei Fiori il notiziario della provincia di Imperia vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21.30 con lo speciale Confindustria dove si parlerà di economia e turismo presenti in studio Alessandro Bocchio presidente provinciale di Confindustria Marco Sarlo presidente della Federturismo per Confindustria ma anche presidente della Sanremo Promotion e infine il nuovo direttore provinciale sempre di Confindustria Paolo Della Pietra buona serata